Grazie a tutti Grazie a tutti Signore questi pericoli a livello spirituale e anche materiale, fisico Alleluia gloria al tuo nome e provvedevi per ogni cosa Quindi questa sera Signore per te non è una novità trovarci in questo luogo e adorarti Signore no, tutto è stato scritto, stabilito da te Alleluia gloria al tuo nome quindi oh Signore siamo qui per fare la tua volontà e per offrirti anche questa sera il vero sacrificio della lode Sia a te Padre che a Gesù benedetti in eterno Alleluia amèn Alleluia gloria al tuo nome e grazie a tutti Grazie a tutti. 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 di noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.